Sono partite che oltre che per la classifica indubbiamente contano molto per il tipo di avversario che incontriamo avversari di valore e migliori del campionato e quindi per noi sarà un bel test per smentire quello che abbiamo fatto avremo bisogno di giocare assolutamente bene principalmente di contenere bene il Napoli per poterci poi riproporre altrimenti il Napoli è una squadra che ha grande qualità e quindi che fa tanti gol e quindi noi dobbiamo non ripetere assolutamente la partita di Empoli sotto questo aspetto che devo dire alla verità è stata forse l'unica per quello ho detto è stata forse la peggiore sotto questo aspetto e dobbiamo ritornare ad essere almeno sotto quell'aspetto la solita Atalanta che abbiamo visto tante volte perché di lì nasce poi la possibilità di fare una prestazione positiva e creare i presupposti per fare risultato non abbiamo Ilici con Barrov vedremo domani all'ultimo momento se potremmo avere l'ok almeno per portarlo in panchina però è chiaro che in attacco in questo momento non siamo tanti una soluzione è Ilici e Rigoni per sostituire Ilici c'è un centrocampista, un esterno potrebbe essere anche un esterno in più qualche accecchetto abbiamo però abbiamo la possibilità di noi arriviamo molto determinati e carichi per cercare di fare una bella partita l'ambiente, il clima di Bergamo in questi anni è fantastico per giocare a calcio e tutto il resto sono veramente tentativi di sviare quella che invece può essere e spero, mi auguro, veramente una bella partita di calcio grazie a tutti